E l'arbitro dice che può bastare, hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, provando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. E invece la tua analisi di questa gara qual è Luca? Questa squadra dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Non ci resta più molto tempo, un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie. 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 Grazie.